Scopriamo ora un cantante americano molto famoso di origini, Lucane, l'intervista di Cinzia Grenci. Stamattina un po' di swing americano con Bobby Darin, una voce straordinaria che negli anni 50 era considerato un po' il rivale di Frank Sinatra in America, un crooner veramente popolarissimo che in realtà si chiamava Walden Robert Cassotto, Leonardo Pisani, ed era originario di Melfi, vero? Puro Melfitano, nipote di Antonio Saverio Cassotto, detto Simon Gagser, che poi morirà a Sing Sing qualche anno prima della sua nascita. Era emigrato a New York. Era emigrato giovanissimo con i nonni, eccetera, nell'Issa Arlem, la famosa Arlem italiana. Una storia straordinaria, lui è un personaggio unico e ringrazio Nino D'Agostino che ce l'ha segnalato. Perché? Lui fino a 32 anni è convinto di essere figlio della nonna, perché la mamma, non si sa, Lui è molto giovane, 16 anni, hanno nascosto, e lui era convinto che la mamma era la sorella. Lo venne a scoprire quando decise di darsi alla politica. Personaggio eclettico, perché lui, dalla nonna che è una cantante vaudeville, apprende la musica, il canto, suona un sacco di strumenti. Dopodiché è un genio, tanto è vero che entrerà anche nel club dei geni. Mensa, il famoso Mensa, no? Grandissimo giocatore di scacchi, che aiuta anche Bobby Fischer nella sua carriera, fin quando lo vede finalmente campione mondiale. Un cantante che piaceva anche agli afroamericani, perché sapeva fare gospel, swing, e poi la politica. Lui ha partecipato alla marcia a Washington con Martin Luther King. Un grande sostenitore degli diretti civili, no? E poi diciamo questa carriera appunto straordinaria nei teatri, anche un po' nel cinema. Anche nel cinema, molto. A un certo punto sposa addirittura Sandra Dee, che è l'attrice resa famosa dal film Scandalo al sole, no? La biondina di Hollywood. Lui a un certo punto sostiene la causa del Partito Democratico, è molto amico della famiglia Kennedy, e quando i Kennedy, tutti e due i fratelli, vengono uccisi, ha una depressione. Prende un camper e si dà alla fase creativa, bellissima, l'ultima, con musica country, musica popolare, ed esce l'unico disco che aveva scoperto le sue origini. Ecco, e diciamo che la sua vita è stata caratterizzata anche da una salute piuttosto cagionevole. Molto, sin da piccolo. Infatti muore molto giovane, a 37 anni, per un attacco di cuore, no? Per una patologia cardiaca. Sì, lui da piccolo, gli avevano detto addirittura che non poteva superare l'adolescenza, e per testamento quando regale il suo corpo per le ricerche mediche. Bene, grazie a Leonardo Pisani e grazie anche a Nino D'Agostino per questa segnalazione. Per oggi è tutto, alla prossima.